Parliamo con Luigi Saragnese. Perché parliamo con lui? Perché lui è l'autore di un recente e interessantissimo volume che si intitola I comunisti e la scuola. Il sottotitolo è La politica scolastica del partito comunista italiano dalla liberazione al congresso di Rimini, quindi dal 1945 al 1991. A noi quello che interessa oggi discutere con Luigi Saragnese è un aspetto che è un po' di attualità in questi giorni perché proprio in questi giorni cade il sessantesimo anniversario della approvazione di quella che viene considerata una delle leggi più importanti e più decisive per il nostro sistema scolastico e cioè la legge 1859 che è la legge che istituisce la scuola media. Nei due anni precedenti l'approvazione della legge si era parlato della battaglia per il latino e nel dicembre del 1962 la battaglia per il latino si conclude appunto con l'approvazione della legge. Allora partiamo di qui ma perché si era parlato di battaglia per il latino? Sì dunque la questione della battaglia del latino che riguarda appunto l'approvazione della riforma della scuola media unica del 62 è in realtà una questione che si trascina sin quasi immediatamente dopo la la fine della guerra di liberazione quando si trattò di dare attuazione a quanto disposto dalla costituzione stessa cioè di un obbligo scolastico che doveva essere per tutti gli otto anni ma senza andare così indietro voglio riferirmi invece a quel fatto poco noto a cui prima accennavo e cioè nel 59 il gruppo comunista al senato primi fermatari furono i senatori Donini, Ambrogio Donini e Cesare Luporini un filosofo e uno storico delle religioni molto noti i quali presentano una proposta di riforma della scuola media anzi dell'intero ciclo dell'obbligo in cui per la prima volta in maniera esplicita si parla di una scuola media unica senza il latino ma con un asse culturale che doveva essere prevalentemente storico scientifico è uguale per tutti cioè che desse a tutti a tutti i ragazzi la possibilità di avere una formazione che mettesse che li mettesse in grado di di fare poi le scelte conseguenti di studio di lavoro successivamente dunque i comunisti propongono il gruppo al senato il gruppo parlamentare comunista propone appunto una riforma una scuola media unica senza latino ecco ma senti perché all'epoca che cosa succedeva al termine della scuola elementare cioè i ragazzini dove andavano a finire in quali scuole potevano frequentare c'erano due scelte la prima era la la scuola media la scuola media era la scuola con il latino che preparava al liceo e quindi era la scuola che seguendo la l'organizzazione degli studi fatta da giovanni gentile preparava alla formazione delle future classi dirigenti l'altra era invece la scuola di avviamento una scuola che quindi avviava preparava all'ingresso nel mondo nel mondo del lavoro una scuola quindi povera culturalmente pensata progettata e attuata per i figli degli degli operai i quali erano così diciamo condannati no a svolgere lavori meramente esecutivi sin dalla giovanissima età perché la scelta veniva appunto alla fine della scuola della scuola elementare questo era la grande la grande diciamo divisione che avveniva la proposta di scuola media di scuola media unica invece andava appunto nel senso di rompere questa questa divisione che diciamo avrebbe portato poi i bambini i ragazzi a scegliere definitivamente in età precocissima quale sarebbe stato il loro il loro avvenire nel pensare la proposta di scuola media unica il gruppo parlamentare comunista si richiamava esplicitamente all'insegnamento di Gramsci a quello che Gramsci aveva scritto nei nei quaderni del carcere in particolare nel quaderno 12 dove appunto immaginava pensava una scuola formativa formativa per per tutti ecco però perché luigi perché una scuola formativa per tutti ma senza il latino perché il latino era così dirimente allora il latino era diventava dirimente era dirimente intanto per la per la tradizione culturale italiana il latino era il caposaldo di una scuola che vedeva gli studi umanistici no come centrali nella formazione nella formazione della della classe dirigente in secondo luogo perché dobbiamo ricordarci che l'italia degli anni 50 era ancora un'italia che aveva tassi di analfabetismo spaventosi parliamo di di una media del 30 per cento con tassi molto più alti nelle campagne e nell'italia e nell'italia regionale per questo il latino diventava come dire discriminante perché permetteva a coloro che già avevano alle alle spalle una famiglia con una formazione culturale alta di proseguire diciamo naturalmente fra virgolette no questo tipo di studi prepararsi poi a diventare classe classe dirigente la battaglia del latino si è accese perché subito dopo o meglio alcuni mesi dopo il la proposta di legge comunista viene presentata nel gennaio del 59 la demorzia cristiana presenta un suo progetto di legge che diventa poi quello della maggioranza contrapposto in questo progetto di legge il latino restava restava obbligatorio nella seconda classe della scuola media e facoltativo in terza media ma obbligatorio per coloro che avessero voluto poi proseguire verso il liceo però in realtà il partito comunista non era un blocco monolitico su questo perché c'erano dei pezzi all'interno del partito comunista che invece la pensavano un po' diversamente sull'insegnamento del latino se non sbaglio per esempio concetto marchesi non era perfettamente allineato sulla posizione diciamo del partito è così sì è così in questo senso su rinascita sin dal 45 si avviò un dibattito su quella che avrebbe dovuto essere appunto la riforma della scuola della scuola media e si confrontarono sin dall'inizio due posizioni molto nette e distinte la prima quella di Antonio Banfi docente di filosofia teoretica alla statale di Milano notissimo combattente partigiano la seconda quella appunto di concetto marchesi che era stato rettore l'università di patova sicuramente uno dei maggiori studiosi della lingua e letteratura latina di quel tempo Banfi e Marchesi presentavano due idee diverse Marchesi pensava che il latino dovesse rimanere perché aveva un carattere formativo generale e quindi secondo lui rispondeva a quell'idea di scuola disinteressata per tutti di cui parlava Gramsci nei quaderni. Marchesi a mio parere forzava il significato del testo di Gramsci, Gramsci peraltro nei quaderni parla che bisognerà superare il latino, sostituire il latino con altro eccetera perché comunque Marchesi giustificava questa posizione dicendo che l'idea della cultura disinteressata della cultura alta doveva essere per tutti per questo il latino doveva doveva rimanere nella scuola media cioè anche il figlio dell'operaio ha diritto a conoscere Catullo e Cicerone e quindi questa era un po' l'idea di Marchesi è giusto? Sì Banfi invece pensava che occorreva nella scuola media dare maggiore importanza e peso a un nuovo asse culturale che doveva essere diciamo storico scientifico e quindi dare nella scuola media un'importanza a quelle discipline che erano state sino ad allora escluse se non trascurate nell'assetto gentiliano e per questo il latino doveva essere rinviato lo studio del latino doveva essere rinviato al ciclo secondario superiore. Veniamo allora ai primissimi anni sessanta cioè sessanta sessantuno che sono gli anni decisivi poi per la approvazione della legge ricordiamo ovviamente all'epoca il partito comunista non era nell'area di governo era all'opposizione erano gli anni in cui nasceva nascevano i primi governi di centro-sinistra come si sviluppa il dibattito a livello parlamentare e cosa succede cioè com'è che ad un certo punto ci si mette d'accordo e la legge viene comunque approvata? Dunque ricordavo prima che la democrazia cristiana presenta un suo progetto di riforma primo firmatario era il senatore medici che aveva appunto quelle caratteristiche prima ricordavano cioè il latino che restava obbligatorio in seconda poi in terza diventava facoltativo ripeto ma obbligatorio per coloro che avessero poi scelto il liceo. Il tutto come tu ricordavi si intreccia con un periodo che è cruciale nella storia del nostro paese quello dei primi anni sessanta quando c'è prima il tentativo fallito di Tambroni quello di formare un governo con l'appoggio del movimento sociale italiana che dà luogo a un forte scontro politico sociale con morti nelle piazze e così via e che viene superato appunto dal formarsi del governo di centrosinistra. Un primo governo guidato da Fanfani con i socialisti che appoggiavano dall'esterno e poi un governo nel quale i socialisti entrano entrano a pieno titolo. Il portatore di quello che poi diventerà il disegno di legge definitivo è Tristano Codignola che era il responsabile scuola del partito socialista il quale diciamo giunge a una soluzione di compromesso. Una soluzione di compromesso appunto che porta al varo all'istituzione della scuola media con una serie di limiti che il partito comunista poi indicherà e che spiegherà anche il suo atteggiamento nel voto finale. La riforma della scuola media unica ebbe il voto contrario della destra da una parte che naturalmente riteneva troppo avanzata la proposta del governo centrosinistra ma anche il voto contrario del partito comunista il quale sollevò sia su riforma della scuola che su altri organi di stampa. Non solo la questione del latino cioè non è vero che il PC votò contro solo perché era rimasto il latino cosa che peraltro comunque non era di poco conto perché significava significava poi significò poi quelle cose che negli anni successivi vennero divennero molto pesanti per la nuova scuola e che adesso dirò ma anche perché l'insieme dei programmi della scuola media della nuova scuola media ricalcava ricalcavano i vecchi programmi quindi non c'era stato quel rinnovamento che invece era la richiesta che veniva non solo dalle forze di sinistra ma anche da altri. Giusto per la cronaca e per ricordarlo ai più giovani per ricordare i più giovani anche questo pezzettino della nostra storia passata tu hai detto che sulla legge votarono contro non solo il partito comunista ma anche le opposizioni di destra. Non dimentichiamo che fra le opposizioni di destra era molto forte il partito democratico di unità monarchica. Siamo nel 1962 a più di dieci anni a più di anzi a quasi 15 anni diciamo dalla nascita della Repubblica Italiana e in realtà i monarchici sono ancora presenti in Parlamento. Questo lo ricordiamo solo per la cronaca. Torniamo allora all'approvazione della legge quindi hai detto che il partito comunista votò contro non soltanto per la questione del latino ma perché la legge in sé veniva considerata un po' debole. Per esempio se non ricordo male c'era anche tutta la questione degli investimenti che questa legge prevedeva e che secondo il partito comunista erano un po' deboli perché non erano non sarebbero stati sufficienti per aprire davvero scuole medie su tutto il territorio nazionale. Quindi i comunisti dicevano sì va tutto bene ma dopodiché poi per garantire l'obbligo scolastico come facciamo se gli investimenti sono così modesti. giusto? Certo. Il disegno di legge Donini Luporini che divenne poi la relazione di minoranza finale quando si arrivò al momento dell'approvazione della legge si votò su due proposte diverse. Conteneva la proposta comunista anche un piano di investimenti pluriannale che doveva far fronte alla cronica mancanza di aule. Parliamo di decine di migliaia di aule che mancavano che doveva far fronte ai bisogni agli aiuti per le famiglie, borse di studio eccetera, il problema dei trasporti e così via. tutto questo mancava nella riforma della scuola media e mancava appunto anche quella riforma dei contenuti dei programmi. Non a caso nella proposta del PC non c'era solo la riforma dell'ordinamento della scuola media ma c'era la riforma completa dei programmi, dei contenuti dei programmi dalla scuola elementare, il primo ciclo diciamo così, alla scuola media. Limiti della riforma emersero poi negli anni successivi che videro appunto un'impennata delle bocciature, un aumento degli alunni delle classi differenziali. Torino in particolare, ma soprattutto le grandi città del nord che stavano vivendo proprio in quegli anni il fenomeno massiccio dell'immigrazione aveva tassi di allievi nelle classi differenziate più del doppio della media italiana. Nel libro cito la scuola media di Via Artom a Torino, che è un quartiere della periferia di Mirafiori Sud, che aveva più del 30% di allievi nelle classi differenziali. Cioè gli anni successivi al varo della riforma della scuola media mostrarono naturalmente gli aspetti anche positivi perché ci fu un forte innalzamento, aumento del numero degli allievi e questo naturalmente non va dimenticato, ma anche tutti questi limiti che la riforma portava con sé. Certo, limiti che poi vengono messi in evidenza anche da un libro importante della seconda metà degli anni 60 che fu lettera ad una professoressa scritto dai ragazzi della scuola di Barbiana. Senti, tu sai Luigi che di tanto in tanto, soprattutto ultimamente, ritorna un po' questo ritornello. Tutti i mali della scuola italiana hanno origine proprio dalla riforma della scuola media, cioè se non ci fosse stata quella riforma e avessimo lasciato i due percorsi al termine della scuola elementare, forse le cose sarebbero andate meglio. Ora, posto che la storia non si fa con i sé, quindi perché non abbiamo comunque, non possiamo comunque avere delle prove a favore di questa tesi, ma tu cosa ne pensi? Davvero le sciagure del nostro sistema scolastico vanno fatte risalire alla riforma della scuola media del 1962? No, io penso di no. Io penso che invece il problema sia stato quello che la scuola italiana non ha avuto nel corso del tempo una riforma organica che investisse tutta la scuola. Nel mio libro parlo utilizzando un concetto di Massimo Baldacci di un riformismo contraddittorio. Gli anni 60-70 furono connotati da un insieme di importanti, significative riforme, che adesso non elenco per brevità, ma che quelli fra di noi che hanno un po' di anni in più sulle spalle ricordano, insomma, dalla gestione collegiale della scuola all'inserimento degli alunni disabili e così via. Il problema è che tranne la riforma della scuola media con i limiti che abbiamo ricordato, tutti gli altri settori e in particolare la scuola secondaria di secondo grado non furono investiti dalla riforma e il cambiamento poi di quadro politico, il cambiamento dei rapporti di forza nella società, fece sì che persino alcune di quelle riforme negli anni 60, vennero poi nel corso del tempo o dimenticate o comunque stravolte e non riuscirono perciò a portare a quel elevamento generale della cultura, insomma, quel progresso intellettuale di massa di cui parlava Gramsci, di cui c'era e ci sarebbe un grande bisogno anche oggi. Bene, ringraziamo Luigi Saragnese. Le cose di cui abbiamo parlato che riguardano appunto l'approvazione della legge 1859 sulla scuola media unica le trovate anche scritte, raccontate con dovizia di particolari e di documentazione nel libro che lui ha scritto, i comunisti e la scuola, la politica scolastica del partito comunista italiano dalla liberazione al congresso di Rimini dal 1945 al 1991. È un tomo piuttosto corposo ma di grande interesse perché racconta davvero un pezzo importante della storia del nostro sistema scolastico. Grazie a Luigi Saragnese. Grazie a te.